I dubbi sono stati sciolti nelle ultime ore. Massimiliano Tangora sarà il nuovo allenatore del Barletta 1922. Dopo i contatti con la società biancorossa tra la serata di ieri e questa mattina, il tecnico barese ha trovato l'accordo per guidare la squadra fin dal match di giovedì in Coppa Italia contro l'Unione Calcio Biceglie. Tangora ha già conosciuto Barletta da calciatore e ne ha indossato la maglia nelle stagioni 2007-2008 e 2008-2009, conquistando un accesso tra i professionisti tramite ripescaggio e la conseguente salvezza nell'allora Lega Pro seconda divisione. All'attivo vanta 62 presenze e 5 gol con i biancorossi, in attesa delle nuove sfide che lo attendono ad oltre un decennio dall'ultima apparizione nella città della disfida. Per l'allenatore è la quinta esperienza in panchina dopo quella da vice al folegno, quella da tecnico del Bari Under 17 e la doppia avventura a Monopoli tra il 2015 e il 2017. Sostituisce Massimo Gallo, esonerato dal Barletta 1922 dopo sei match ufficiali tra campionato e Coppa Italia di eccellenza. Per Tangora è subito il momento dell'esordio ufficiale nella Nuova Veste. Oggi pomeriggio incontrerà la squadra al Manzichi Apulin in occasione della ripresa d'allenamenti, mentre giovedì sarà in panchina per l'andata del secondo turno di Coppa Italia. Domenica, invece, la prima uscita in campionato nel delicatissimo scontro a fondo classifica in casa del Veste. Definitivamente scartate quindi le piste che portavano ai ritorni di Franco Cinque e Massimo Pizzulli.